Una Chiesa davvero, secondo il Vangelo, non può che avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte, sempre. Le Chiese, le parrocchie, le istituzioni, con le porte chiuse non si devono chiamare Chiese, si devono chiamare Musei. Rafforzare il legame tra famiglia e comunità cristiana è oggi indispensabile e urgente. Certo, c'è bisogno di una fede generosa per ritrovare l'intelligenza e il coraggio per rinnovare questa alleanza. Le famiglie a volte si tirano indietro dicendo di non essere all'altezza, ma nessuno è degno, nessuno è all'altezza, nessuno ha le forze. Senza la grazia di Dio non potremmo fare nulla. Tutto ci viene dato, gratuitamente dato. E il Signore non arriva mai in una nuova famiglia senza fare qualche miracolo. Sì, il Signore, se ci mettiamo nelle sue mani, ci fa compiere miracoli. Ma quei miracoli di tutti i giorni, quando c'è il Signore lì in quella famiglia.